È una sperimentazione che avverrà nel mese di dicembre con la quale sostituiremo praticamente le calotte dei cassonetti della carta e della plastica con delle calotte ad accesso non controllato. Analisi dei dati e della situazione in ordine alla quantità e qualità del rifiuto riciclato per arrivare a una scelta definitiva sulle modalità di conferimento. A Feltre l'amministrazione Fusaro è pronta a mettere mano al sistema che fino ad oggi ha premiato di più anche in termini di riconoscimenti nazionali. Per ora si tratta di una sperimentazione limitata alla frazione di Mugnai, in futuro non si sa. Conferimento libero di carte plastica vorrà dire stop alle chiavette di accesso alle calotte, una semplificazione non da poco per gli utenti specie e più fragili. Oggi ad esempio una persona in cartina non può accedere al conferimento attraverso chiavetta o scheda e soprattutto sulla semplificazione del servizio e sulla diminuzione dell'abbandono stradale. Intanto i cittadini dovranno fare i conti con un lieve aumento della tariffa rifiuti nell'ordine di pochi euro dovuto ai costi vivi a carico del nuovo gestore che derivano dal caro energia. Tutto sommato visto l'area l'anno l'aumento sarà abbastanza contenuto insomma e siamo riusciti a restare entro cifre accettabili.